a tutti bentornati a questo nuovissimo video oggi facciamo due giorni perché ieri siamo usciti a cena quindi oggi c'è la campana per la campanina nindo domani ci facciamo le lasagne lo stesso in pazzo però poi devi fare un po' più di volta casetta piccolina in caradam noi ci siamo andati a divertire un pochino guardate di qui in quale capullo mi sono tornato scusate che ieri non c'era la mamma uscita tornata a casa tardi e della cappa o mamma ha dormito fino a mezzogiorno oggi abbiamo fatto una bella tirata sì sì vero e darò cosa stai facendo il suo trono guarda come ci parli allora per questo video tutto ci vuovino doppio a noi ci vediamo domani un prossimo video ci vuovino e voi lì non studio ciao da furmini ciao ciao ehi guarda poi la telecamera saluta